Il confronto in Consiglio Comunale sulla situazione della Teramo Ambiente con Sindaco Brucchi, amministratore delegato Ranalli e Ferri Corti su debiti, pagamenti, servizi e decisioni interne sveglia le opposizioni teramane e le spinge a chiedere conto al Sindaco del rapporto tra comune e partecipata degli ultimi 11 anni. Questo rapporto di credito non si comprende da cosa derivi perché come sappiamo a Teramo esiste la Tari, la tassa su rifiuti e nel quale tutto quando viene speso per fare la raccolta o smaltimento del rifiuto viene ripartito fra tutti i cittadini e viene utilizzato per pagare il servizio. Per cui non si comprende come avendo negli anni le attività economiche dei cittadini pagato tasse altissime dei rifiuti oggi il comune non paghi il credito vantato dalla Tari per il servizio che è stato espletato. Quindi è una posizione che va assolutamente chiarita sia perché la Tari va tutelata per il valore che rappresenta e sia perché il costo di questo servizio viene pagato direttamente dai cittadini che sappiamo in questi anni l'hanno pagato anche con molto sacrificio. Il Movimento 5 Stelle va anche oltre chiedendo una commissione d'inchiesta comunale. Questa situazione è veramente critica poiché l'amministratore ha affermato che secondo lui, se fosse stato per lui, gli stipendi questo mese non sarebbero stati pagati poiché la Team è in una grande crisi di liquidità e il sindaco non è riuscito a imporre alla Team alcune decisioni per quanto riguarda la spending review e il taglio delle consulenze e la cosa ancora più grave è che in sede di commissione di vigilanza e garanzia non siano intervenuti né il presidente né il consigliere nominati dal sindaco che fanno parte del consiglio di amministrazione per dire la loro come parte pubblica contro eventualmente delle scelte scelerate da parte dell'amministratore delegato. Tutto questo non è avvenuto e noi pensiamo che a questo punto Brucchi non ha più il controllo della nostra partecipata, si debba fare da parte e si debba costituire subito una commissione di inchiesta sui conti della Team e soprattutto sul futuro dei lavoratori che sono gli unici che faranno le spese durante tutto questo litigio tra Brucchi e l'amministratore delegato.